Le mani della camorra su San Marino dove arrivavano gli investimenti del clan Schiavone per riciclare ed erano sporco con l'aiuto di imprenditori e professionisti compiacenti. Un giro d'affari per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro che è al centro adesso del blitz che ha portato all'esecuzione di 24 misure di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Napoli per l'associazione delinquere di tipo mafioso e riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta del PM antimafia Cesare Sirignano, Giovanni Conso, Antonello Artituro, Alessandro D'Alessio, Maurizio Giordano è coordinata dal procuratore aggiunto Federico Caffiero Derao tra i destinatari dei provvedimenti esponenti di spicco dei gruppi Schiavone e Venosa. In particolare sono emerse tra Riccione e Rimini estorsioni e vari episodi di intimidazione ai danni di aziende del settore tessile oppure impegnate nell'indotto della moda del made in Italy. Durante le indagini oltre al canale per il riciclaggio di denaro sporco a San Marino i carabinieri hanno ricostruito le manovre del clan per la creazione di una struttura satellite operativa nelle Marche e in Emilia Romagna per la gestione degli affari illeciti nelle due regioni. Fra i beni sequestrati c'è anche una Ferrari modello Scaglietti, una coupé prodotta dalla casa di Maranello dal 2004 al 2011.